Giancarlo, orgoglio di padre? Eh sì, orgoglio sì di padre, quest'anno abbiamo dovuto vivere insieme a mio figlio questa bellissima avventura che si è inventato e curato da solo, ci tengo a dirlo perché è stata una sua scelta e ha voluto scrivere il campionato italiano di fasteceria di miniore, sapete che si è appena smolto a Rimini, l'abbiamo ben istruito, quindi è stato con noi diversi mesi, l'abbiamo veramente coltivato e coccolato in tutte le sue decisioni, però poi alla fine la scelta è stata sua, quella sia del pezzo artistico che del bicchierino che ha presentato e niente, direi che i risultati sono stati più che ottimi, perché essendo il suo primo concorso e più non fa neanche il fasteceria e ancora verrà con noi, ma per ora ha il suo diagnosi artistico, comunque è arrivato il secondo posto assoluto e ha vinto il premio come la migliostruttura, che ha voluto rappresentare appunto le olimpiadi che ci stanno svolgendo appunto soci e niente, siamo stati veramente orgogliosi di essere padri.